Ciao a tutti ragazzi e bentornati su NerdClub, io sono Gela. Questo video sarà molto breve, ma vogliamo dirvi alcune cose molto importanti. Molti di voi ci hanno segnalato che i feed continuano a non funzionare correttamente, cosa che ormai sta affliggendo chiunque su questa piattaforma. Per questo motivo abbiamo ripreso in mano il canale Telegram, tramite il quale vi possiamo notificare tutte le novità, i nuovi video e qualsiasi altra cosa correlata al nostro canale. Se non foste ancora a conoscenza di Telegram si tratta di un'applicazione gratuita per mobile e desktop nello stile di Whatsapp, ma con tante altre funzioni che la rendono unica. Scaricatela e poi utilizzate il link che trovate nella descrizione di questo video per potervi collegare direttamente al nostro canale. Un altro modo per seguirci attivamente, molti di voi probabilmente già lo sapranno, è quello di attivare le notifiche. Per fare questo andate sulla pagina principale del nostro canale e cliccate sull'icona a forma di ingranaggio vicino al numero degli iscritti. Appena appare una finestra spuntate la voce, inviami tutte le notifiche di questo canale e salvate. Potete fare la stessa cosa anche dal vostro telefono, invece dell'icona a forma di ingranaggio troverete una campanella. Attivate la funzione facendo un tap con il dito e il gioco è fatto. Ultima news prima di salutarvi, domenica alle ore 21 riparte il Nerd Show. Quindi vi aspettiamo numerosi in live perché ci sono tante novità importantissime sia dal mondo delle schede grafiche che della tecnologia in generale e abbiamo voglia di discuterne con voi. Riassumendo ricordatevi di seguirci su telegram, di attivare le notifiche e di appuntarvi la live di domenica così da non dimenticarvi. Grazie per tutto il supporto e mi raccomando continuate a condividere i nostri video perché ci aiutate tantissimo. Per ora è tutto e noi ci vediamo con il prossimo video. A presto!